Terra ricchissima di tesori nascosti e sconosciuti, che all'improvviso vengono incontro al visitatore. Il patrimonio di storia, arte e cultura delle colline del buon gusto, meritano da parte di chi le scopre la pazienza e la costanza che caratterizzano da secoli la nostra gente. Percorrere stradine silenziose, soffermarsi lungo strade con scarso traffico, per poter incontrare e bearsi di architetture, pitture, sculture, manufatti dell'artigianato artistico. La storia e le tradizioni sapranno parlarvi all'orecchio, riempiendo la mente e il cuore di armoniosa bellezza. Sorride agli occhi un territorio di colli dolci e di campi coltivati che si incontrano, si susseguono e si innalzano fino a sfiorare il cielo. L'occhio segue i profili dei paesini posti in cima alle colline e i filari degli alberi che incrociano i campi dalle mille sfumature di colore, creando scenari di uno spettacolo unico. L'amore degli abitanti alla propria terra, coltivata e curata come un immenso giardino, ha originato nel tempo prodotti che ancora oggi costituiscono la base di una sana e gustosa alimentazione. Un'arte e una sensibilità che si sposano a un ambiente e a un costume di vita, che fanno della nostra terra un prezioso luogo da vivere e da gustare. L'amore degli abitanti alla propria terra, creando una terra un'amore di un'amore di un'amore di un'amore. L'amore di un'amore di un'amore di un'amore di un'amore. Grazie a tutti